Salve ragazzi da Rebecca e Domi Al Pretty Bimbo di giugno 2014 sono state presentate le collezioni per la stagione estiva 2015 Nei nostri viaggi abbiamo sempre incontrato grandi personaggi Imprenditori di successo, persone simpatiche e uomini e donne da cui imparare Una persona che ci è piaciuta molto Un personaggio direi Sì, Domi hai ragione, un personaggio nel settore è sicuramente Piero Piero Giacomoni Il fondatore di uno dei marchi italiani più conosciuti in tutto il mondo Vediamo! Aspetta Rebi, nel servizio che andai in onda abbiamo fatto l'unblame L'anche? L'unblame! Insomma, per dirti che Dione e Costanza hanno fatto di più che intervistare Piero Hanno intervistato anche le sue donne Ma quante donne ha? Dai Rebi, sua moglie e sua figlia Che lui ha messo all'opera Davvero, imprenditore! Una famiglia che ha creato un impero Sentiamo! Ciao Piero, sono Tavi di Baby Fashion Posso farti un'intervista? Tutto quello che vuoi Qual è la filosofia a cui si ispira a Mona Lisa? Cioè il marchio, a cosa si ispira? Mona Lisa è nata quando io avevo dieci anni più di te Giravo con la motocicletta, con una lambretta in Europa Giravo in giro per il mondo Mi sono fermato a Louvre, a Parigi Ho visto che c'era questa gioconda che tutti guardavano E allora io ho preso e sono tornato a casa E ho aperto una ditta che si chiama Mona Lisa di Piero Iacomoni E ora sono 46 anni che esiste Ok, e quanto sono importanti i mercati esteri? Più di quello italiano Quindi il mondo è molto più ampio E l'estero è quello che ci fa il mercato E il mercato è molto più importante Europa, Asia, America, Oceania Anche l'Australia è fantastica Si aprirà un negozio ora il primo di ottobre Nel miglior posto dell'Australia Gli obiettivi nella parte commerciale sono enormi Perché apriremo 11 monobrand Cioè negozi Mona Lisa nell'anno che viene Come prodotto, se ti piace il prodotto È veramente bello Sono più linee che vanno bene per tutte le occasioni E quindi vesto le ragazzine sveglie come te Quelle che stanno un po' più ferme Quelle che vogliono divertire I ragazzini maschi che sono amici Di queste femminucce nuove Cecoli fa contenti i ragazzi